Il ragioniere Cetrola è un uomo non corruttibile, non guarda in faccia a nessuno, se ne deve andare via. È il contenuto di una delle intercettazioni ambientali riportate nel fascicolo dell'inchiesta che giovedì ha portato all'arresto di ex amministratori comunali di Camerota. A lamentarsi del ragioniere nella conversazione era Antonio Troccoli con il figlio Ciro, assessore comunale. Ma contro la rigidità del ragioniere ci sono intercettazioni che incastrano anche l'ex sindaco romano. Le conversazioni registrate clandestinamente dagli inquirenti hanno tutte lo stesso tenore. Dialoghi che dimostrerebbero che diversi procedimenti amministrativi e nomine avevano come obiettivo ultimo quello di favorire il lavoro e il potere ad amici e parenti di chi gestiva la cosa pubblica. Un sistema che è stato smantellato dall'inchiesta della procura di Vallo della Lucania che ha impegnato per anni i carabinieri della compagnia di Sapri e che ha raggiunto l'epilogo giovedì scorso a due anni circa dalla definitiva uscita di scena dalla casa comunale della coppia romano Troccoli. Difatti nessuno dei due nel 2017 si candidò alle elezioni amministrative ma dall'esterno sostennero due liste diverse. Le 12 persone che giovedì sono state raggiunte da un'ordinanza di misura cautelare attendono con fiducia il riesame. Restano in carcere Antonio Romano, Fernando Cammarano e Rosario Abbate rispettivamente all'epoca dei fatti sindaco, vicesindaco e consigliere di maggioranza. Sono ai domiciliari l'ex primo cittadino Antonio Troccoli e il figlio Ciro e Michele Del Duca, ex vicesindaco. Divieto di dimora per Giancarlo Saggiomo, Vincenzo Bovi e Vincenzo Di Luca. Interdizione per un anno dai pubblici uffici per Antonietta Coraggio, Lorenzo Calicchio e Mauro Esposito.